Le fonti, insomma, ci sono le fonti istituzionali, dentro gli atti del Corpo Volontario della Libertà, il Comando Generale e dentro il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, tu hai pochissimo e puoi decidere che questa è una mancanza di fonti, puoi anche decidere che però è già un bell'indizio di quanto abbia pesato effettivamente all'interno delle istituzioni della Resistenza questo progetto che poi sembra, si viene enfatizzato come se fosse stato il cuore di una grande iniziativa. Comunque c'è ancora una sottoutilizzazione incredibile di cose vecchie, sempre degli anni 70, come le relazioni delle Garibaldi, già sulla… le cose che ci sono sull'Emilia, sulle zone libere delle vallate parmigiane e piacentine, non rientravano nella storiografia che si era consolidata, che è fatta anche dopo. E c'è perché? Perché va in contrasto con una memoria che è stata ufficializzata e che diventa in qualche modo intangibile. E secondo me uno dei motivi per cui le zone libere, specialmente quando vengono trasformate con un gioco di prestigio in repubbliche, uno dei motivi per cui non vengono, non sono state studiate è perché se ci vai dentro davvero scopri che in realtà non solo… è lì che vengono fuori i veri limiti, è lì che viene fuori l'analfabetismo politico di gran parte della popolazione e anche l'estrema frammentarietà delle forze partigiane. Grazie a tutti.